Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati qui sull'antico borgo farming simulator, ciu 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 22 amici oggi dobbiamo andare a liquamare i campi perché finalmente usiamo il liquame delle nostre stalle, delle nostre vacchettine che insomma comincia ad essere abbastanza sostanzioso per farlo useremo una botte patatino, una botte tutta italiana, una botte bossini che trovate sui siti esterni purtroppo la completa e totale morte del mondo del modding sul mod hub ufficiale mi porta purtroppo a dover cercare, trovare, andare a prendere mod da siti esterni chiedo scusa ragazzi ma non c'è altra alternativa visto la morte definitiva del mod hub quindi andiamo a prendere questa bussina da siti esterni prima di cominciare però vi ricordo che in descrizione c'è Twitch dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis, sostenermi, aiutarmi ad entrare anche nella fantastica chat Telegram riservata agli abbonati, potete inoltre offrire un caffettino al canale con il tasto super grazie quindi aiutare anche questo canale che non si aregge da solo raga il canale ha bisogno del vostro aiuto, del vostro supportino quindi grazie e potete anche aiutare la mia partnership acquistando tutto quello che riguarda farming dai miei link e affiliazione Giants qua sotto inoltre i miei social e tanti altri linketti utiletti adesso amici noi ci facciamo portare qua la mod, cioè la botte insomma la mod botte, la botte della bossini piccolina per farlo usiamo sempre la mod store delivery che solo per pc e ci permette di portare, di farci consegnare i mezzi in farm in cambio di un piccolo, 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 piccolo contributo economico pagamo insomma e spese di spedizione allora ragazzi andiamo a vedere andiamo a vedere dov'è la bossini, sono due in realtà le bossini una è più grande e una è più piccola, quella più grande la useremo nei video futuri più in là adesso useremo quella piccoletta, iniziamo diciamo dal basso vedete una è una bossini tre assi, noi useremo la RA100 questa qua, iniziamo dal piccolino insomma, l'andiamo ad affittare vediamo le configurazioni, abbiamo innanzitutto il tipo di getto a ventaglio oppure a destra, a sinistra o la lancia beh, diciamo a me piacciono un po' tutte la lancia forse è la più bella che c'è, però facciamo a ventaglio dai o interratori addirittura, perché questa c'è anche gli interratori interratori fissi, più quello no, ventaglio, ventaglio ventaglio con i suoi sette metri di lavorazione vanno più che bene poi va bene, c'è, ci sono le configurazioni ruote che non mi cambia molto il pescante standard o il pescante estensibile non ce ne frega niente pure qui, è tutta estetica alla fine colore telaio, colore secondario ah, forse è possibile scegliere sia il colore del telaio che il colore secondario no, io prendo tutto standard poi le decals, se vogliamo queste, questa, 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 questa se le decals, diciamo, quelle un po' più quelle un po' più moderne ecco, a me piace così, piace così vado sul passato poi colore braccio comandi, vabbè, non ce ne frega niente poi colore dei mozzi, colore telaio lasciamo tutto di default, ragazzi eccola qua, guardate che spettacolo guardate che bellezza ma che c'ho la super forza attiva? no eh, non ce l'ho la super forza attiva perché chissà come mi dà la manina vabbè, comunque ragazzi, guardate che spettacolo voglio far fare un giro intorno alla fantastica Bossini spettacolare allora, non mi ricordo quanti cavalli richiede mi tocca andare a guardare 100 cavalli quindi la tiriamo praticamente con qualsiasi trattorino del, del, del gioco vabbè, io la tirerei, io la tirerei con Lambo, dai la tiriamo con Lambo non credo che sia troppo grosso il Lambo adesso vediamo come ci sta credo che ci sta bene, eh sì, 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 ci sta benissimo ci sta benissimo, ragazzi ci sta benissimo perfetto, vedete tutti i collegamenti tutti, tutti i vari tubicini collegati adesso andiamo di là a prendere il liquame delle nostre bellissime vacchette ed è qua diciamo ecco la ricarica del liquame perfetto a posto e adesso andiamo versi i campi da lavorare da liquamare con la nostra stupenda Bossini la protagonista della giornata e vai e vai oh, guardate che carino guardate che carino mi sta allaggando un po' il gioco, eh mi sta allaggando il gioco perché ovviamente adesso non è il caso della Bossini perché è fatta bene però utilizzando mod dei siti esterni ci sono dei warning ad esempio sulla reskin del Fiat ci sono alcuni warning non è solo quella ovviamente che fa laggare però ecco tutti questi warning uniti insieme dei mod scaricate dei siti esterni beh scusate fanno laggare fanno laggare un pochetto fanno fare questi micro lag quindi abbiate pazienza se se ne vedete qualcuno insomma purtroppo la botte piena la moglie è ubriaca non esistono quindi vogliamo attingere dalle mod dei siti esterni e quindi dobbiamo prenderci un po' di un po' di lagghettino che è una cosa normaletta dai allora come al solito cerco prima di fare le testate e poi cominciamo a fare il su e giù beh lavora bene è uno spettacolo lavora veramente bene ok se non sbaglio questo è lo stesso modder che ha fatto la berti se non va del rocchio dovrebbe essere un attimino ok dovrebbe essere sempre quel modder lì non credo che stia lavorando si sta lavorando a 7 metri si ok si ma devo un attimino togliere se ne attivo un grado ok ecco non era attivo è per quello che non mi se ne andava la striscetta ok beh dai non è malino non è malino non è malino ok abbiamo già finito abbiamo già finito un pienotto dobbiamo andare a prendere il secondo carico in farm se io apro ragazzi la console guardate i warning anche la bossini guardate guardate i warning che ha guardate anche la bossini lo vedete quindi è normale che quando si vada a tingere sui siti esterni purtroppo per prendere le mod a volte ci sta qualche piccolo laghetto qualche piccolo warning secondo me è un prezzo che si può pagare secondo me è un prezzo che si può tranquillamente pagare per avere queste bellissime moddine poi non è che tutti i warning causano lag eh ve lo ricordo la cosa è molto più complessa di così però quello che vi volevo dimostrare quello che volevo dire è che a volte quando si attinge dalle mod dei siti esterni può succedere che avete qualche lagghettino in più è normale il gioco vale la candela alla fine insomma avere questa bellissima bossini i fiat e tanta altra roba scaricabile ai siti esterni anche la mappa stessa c'è la mappa stessa alla fine essendo una mappa dei siti esterni sicuramente ci avrà qualche problemino qualche cosa però ci può stare insomma the show must go on per portare avanti lo spettacolo ci può stare ragazzetti ci può stare the show must king kong non spreca il liquame non spreca il liquame vai qui raga semineremo avena no avena orzo orzo per fare la farina perché ho costruito una zona industriale laggiù dove c'è anche il frantoio visto che sta mappa purtroppo non ha una sua zona industriale ne ho costruita una io in live ieri mattina che adesso vi porto a vedere ovviamente a fine puntata vi porterò a vedere la nuova zona industriale ci ho messo un forno ci ho messo il panificio appunto no ci ho messo il panificio ci ho messo il mulino per fare la farina tutta roba piccoletta e un caseificio quindi tutta roba piccoletta per fare le cose in piccolo niente di di strabiliante poi ci voglio mettere anche uno zuccherificio lì vicino ho trovato comunque uno zuccherificio stile europeo carino che si adatta bene alla mappa e ce lo voglio mettere ce lo voglio mettere insomma un po' di produzioni ce vogliono anche un pochino per per aumentare la longevità del gioco per fare cose un po' più diverse quindi su questo campo qua su questi campi qua che adesso stiamo liquamando useremo appunto cioè ci semineremo appunto l'orzo per farci dell'ottima farina e poi fare dell'ottimo pane che sta proprio lì ho messo mulino e panificio li ho messi proprio attaccati attaccati vicino proprio per farci quella roba lì comunque lavora benissimo sta bossinetta eh sono proprio soddisfatto ciuccia come natannata eh magna se magna liquame come natannata però però funziona bene io magari abbasserei un pochino il consumo lo so che magari nella realtà consuma così eccetera eccetera però se non sta a fare 500.000 viaggi abbasserei un pochino il consumé cos'è il consumé è il consumé una cosa che si consuma consumé insomma piano che se no butto giù la casa non mi pare l'ideale di buttarmi giù la farm oh k prima adesso finiamo finiamo sto campazzo e poi vi porta a vedere la zona industriale dove l'ho costruita come l'ho costruita poi qua ci sarà da interra tutto un'altra volta e poi più avanti nelle prossime puntate useremo ovviamente la botte quella più grossa quando faremo la prossima la prossima liquamatura ok non sprechiamo ragazzi che qua è oro sto liquame liquametto dorato oggi ragazzi aspettatevi un altro video della serie oggi due video della serie perché ho due mod da farvi vedere quindi una era questa bellissima bossini poi ve ne devo far vedere un altro un'altra quindi video su video su video ragazzetti oggi da robimello un po' più corti magari però l'importante è che siano di qualità non conta la lunghezza ma no è meglio un video un pochino più corto ma di qualità piuttosto che video da un'ora di mezz'ora che in realtà dicono poco e niente io la vedo così perlomeno ok a posto a posto facciamo questa piccola linguettina e vi porto ragazzi a vedere la nuova zona industriale che Robimello ha fatto con tanto amore con tanto affetto l'ho fatto con amore e con affetto con affetto e con l'amore l'ho fatta la zona industrialotta tanto sentite a parte il traghetto allora questa un attimino la lascio qua scendiamo un attimo ora ci sozzamo tutte le scarpe che c'è tutto il liquame e vi porto a vedere la zona industriale come vedete la zona industriale la sto creando qua ma qua c'è ancora una lingua di terreno da usare quindi probabilmente qui metterò lo zuccherificio lo zuccherificio e tutto quello che ancora manca da mettere come vedete questa è tutta la zona l'ho anche recintata guardate che bello l'ho anche recintata con questa mod lì con quella cornice mod lì che mi piace tanto questo è l'antico frantoio che abbiamo già visto qua abbiamo il mulino ragazzi guardate che bello il mulino questo qua l'ho scaricato dal dal modab ufficiale molto carino piccoletto ci sta bene no? ci sta bene questo è il panificio per fare il pane così portiamo la farina direttamente qui e faremo dell'ottimo pane e più qua come vedete ci ho messo il caseificio quindi questa è una piccola zonetta industriale ma non è finita ragazzi non è finita perché ci c'è anche ci farò anche un'entrata adesso io qui ovviamente ho chiuso tutto con la recinzione perché attualmente è chiuso non è aperto ma poi toglierò questa recinzione e qui ci metterò lo zucco edificio ci metterò altre altre zone però per il momento ragazzi non è non è male come zona no? quindi amici fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta sta puntata se vi piace la zona industriale cosa ne pensate della Bossini commentate 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 io ringrazio gli amici abbonati a Nema Vita Corre del canale che ho detto dal canale di sostenersi di andare avanti di portare tutti questi contenuti l'avete lasciato il mi piacetto che è molto importante il mi piacetto e il campanelletta sono due cose importantissime mi piacino e il campanellino quella di Peter Pan e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao